Lascia like, iscriviti al canale, non te ne pentirai. C'era ci sono Ninja Hyper. E oggi sciopperò il Brawl Pass 6, la banda di braccio d'oro. 3, 2, 1... Brawl Pass scioppato, Colt Pistolero. Mamma mia, quante casse devo aprire? Quante casse devo aprire perché guardate un po' qua. Ho ancora quelli della stagione precedente, Ben 15, come ho fatto vedere in un altro video. E anche qua, mega casse nel cammino di trofei. Mamma mia, wow. Sono veramente contento, ragazzi. Prendiamo immediatamente il Colt Pistolero. Così possiamo anche vedere la nuova animazione che hanno messo quando esce. Vabbè, qua l'animazione che gira è fantastica, ma quando appare così è una cosa di una forza. Guardate qua, pure la scritta Brawl Pass, gli hanno messo Stuxi Skin. Per me è la skin più bella che hanno messo nel pass. Anche perché a me piace il tema Far West, mi è sempre piaciuto. E quindi io sono contento con questo pass. Io comunque ricolto un sacco di skin. Colt Rockstar, Colt Forilegge, Colt Sfidante. E ora Colt Pistolero. Staskin lo userò per sempre. Forse qualche volta ci metterò anche il Colt Sfidante. Ma in questo periodo, tema Far West, Colt Pistolero assicurato. Immediatamente campo di prova perché staskin solo merita un bel like. Il colpo è la super, so già che non cambiano. Spoiler per chi non lo sapesse, scusate. Vabbè, dai, tanto. Già, sta skin per me se costasse con gemme costerebbe 150. Ho sempre avuto questo istinto, non so voi cosa pensate. Anche un tanto ci sta, però il cappello guardate com'è tutto. Con gioielli sopra, come potete ben vedere qua. Quindi un bel 150 io glielo darei. Puoi dire che questo skin come tema Far West ci sta un sacco. Guardate pure qua il pistolone che c'è sopra il cappello arrabbiatissimo. Brawl Pass Espresso lo scriviamo pure nel club. E mi raccomando ragazzi, in futuro fare il video che prenderò a bell, il nuovo brawler, non lo potete perdere quel video. Incredibile ragazzi questo brawler. Poi ragazzi questo brawler ha una nuova meccanica ben particolare. Like, iscrizione, campanella e il prossimo video. Ciao!